Questa è la mia primissima volta in assoluto su BeamNG Drive, il gioco dove possiamo sfasciare le macchine in maniera super realistica. Ovviamente l'ho moddato e andremo a provare una mappa fighissima con uno squalo gigante, un vermone ancora più grande e dei salti fuori di testa. Non voglio spoilerarvi nulla perché ho distrutto tante di quelle macchine che voi non avete idea. E come sempre se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Qualcuno di voi avrà sicuramente già capito il gioco, anche perché probabilmente ci sarà scritto nel titolo. Oggi siamo su BeamNG sulla mappa dello squalo gigante e del vermone gigante. Ragazzi guardate quanto è bello! È gigantesco, è cattivo, mostruoso, è distruttivo! Lo squalo invece è semplicemente perfezione. Tralasciando che oltre ai due mostri ci sono anche degli scivoli acquatici, delle ruote della morte, dei bersagli, degli spuntoni. Questa mappa è una figata assurda, cioè guardate quanta roba c'è! È distruzione totale! È teardown però con la mod della grafica al massimo! È fantastico! Guardate questo scivolo! Ragazzi sto già per impazzire! Io questo gioco lo amo! Vorrei fare un ringraziamento speciale a Lion per avermi dato una mano a capire i tasti di questo gioco! Servono tre lauree in ingegneria! Che per ragazzi su sto gioco ci sono un sacco di macchine! E alcune sono stranissime tipo l'Ibish Ouigeon! Io però oggi voglio iniziare in grande stile, con l'auto bello piccolina, però versione tricolore italiano! E voi vi starete chiedendo, Poggo! Ma perché vuoi iniziare con questa cacata? Ci sono macchine molto più fighe e veloci! Semplicemente perché l'ho moddata! Dentro alcune di queste macchine possiamo inserire l'omino che si andrà a schiantare, distruggere, esplodere e morire! Non vedo l'ora! Iniziamo! Piano! Piano! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sto per andare nella bocca dello squalo! Guardate quanto è cattivo! Tra l'altro possiamo attivare anche il rallenty! Omino! Tutto bene? Sei pronto a schiantarti? Ragazzi sono emozionatissimo! Questo gioco è una figata! Finalmente posso giocarci! No! Mi è esploso il motore! No 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 no! Non posso controllare la macchina! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Rallenty! Oh mio Dio è diventata una scatoletta di tonno! Oh oh! Che figata! C'è anche l'acqua in bocca allo squalo! Ragazzi la macchina si è completamente disintegrata! E credo che l'omino dentro sia definitivamente morto! Probabilmente non ha più le ossa! Ah ragazzi una cosa importantissima! Scrivete nei commenti quale nome dovremmo dare a questo omino! Mi raccomando siate creativi! Ma se io lo facessi in retromarcia no! No no! Pessima idea! Pessima idea! Pessima idea! Oh ah ah ah! No! No! Scusa omino! Ma come ho fatto a finire qui in mezzo? No no ragazzi! Ragazzi c'è un problemone! No! No! Sono incastrato! Eeeh! Ehm! Pessima idea! La macchina si è quasi già rotta! Tra l'altro guardate la targa Pollo Doggo! È fantastico! Frena! Frena! Oddio! Oddio! Vai! Vai girati! Addrizzati! No! No! Non così! Non così! Aspetta! Aspetta! Ok! Ci sono quasi! No ragazzi! Ragazzi! Finirà malissimo! Omino mi dispiace! Non doveva andare così! Buono! Buono! No 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 no! Oddio! Oddio! Ah che botta! Che botta! Che botta! Che botta! Oddio! Si è accartocciata la macchina! È diventata una lattina della Coca Cola! Sbaglio! Vedo la testa dell'omino da una parte e il corpo dall'altra! L'ho decapitato! Aia! Che dolore! Direi di passare alle cose serie! Con una bella auto da corsa della polizia! No no no! Buona! Buona! Mi si è già sfasciata! Ma dai! Ma che schifo! No! No! Resta su strada! Vai! Faremo un salto infinito! Let's go! Con questa rampa addirittura lo superiamo lo squalo! Oddio! Vai vai vai! Wow! Oh mio Dio ragazzi! Salto sullo squalo gigante! Mamma mia! Adesso finisce malissimo! Finisce malissimo! Ok! Rallenti! Oddio! 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 Si è accartocciata e diventa... Oddio! No! L'albero! L'albero! Oh no! No! Buono! Buono! Oh mio Dio! Che brutta fine che ha fatto la macchina! E comunque ragazzi abbiamo la conferma definitiva! L'omino si può decapitare! Non ha più la testa! Vieni qua! Vieni qua! Massima velocità 230 all'ora! No! 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 E... Credo di aver preso la rampa leggermente male! Mi sono schiantato contro la lingua e la macchina non esiste più! Adesso ditemi che questa non è la macchina più sexy e tamarra del mondo! È bellissima! E visto che sono pazzo... No! No! Stai buona! Stai buona! Buona! Lo faremo in prima persona! Oh mio Dio! Stiamo per entrare nella bocca dello squalo! Fatti sotto! Piano! Piano! Ok! Questa volta la prenderò giusta! Vai! Vai! Oddio! Oddio! No! Oddio! Oddio! Sto per vomitare! È stata una pessima idea No, no, aiuto, aiuto Tutto bene? Sono ancora vivo? Eeeh, no Mi sa di no Si è schiacciata così tanto che è diventato uno dei vagoni delle montagne russe Cioè ragazzi è identico Prima di passare al vermone gigante Vorrei provare questo capolavoro di discesa Cioè ragazzi guardate che figata Se riusciamo ad arrivare alla fine con solo una ruota È già un traguardo immenso Iniziamo, non vedo l'ora Posso dire che questa macchina è veramente bellissima? Color verde smeraldo dei villager su Minecraft Let's go Dobbiamo evitare tutti questi pilastri rossi Facilissimo Vai Oddio Oddio Si, facilissimo Come no Ma dai ma è diventata una motocicletta Cioè no vabbè non è possibile Non arriverò mai alla fine No, 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 no Ecco Appunto Quella macchina mi ha leggermente deluso Quindi perché non utilizzare un intero autobus? Tanto basta andare dritto Non dobbiamo sbandare Non dobbiamo girare né a destra né a sinistra Ma tirare dritto Vai Vai Oh mio dio L'autobus sta andando No, 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 no Sta andando a 150 km orari Oddio, oddio No, 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 quello lo prendiamo in pieno Oddio Oddio Tra l'altro esiste anche questa skin per l'autobus Cosa dovrebbe essere? Una trivella gigante? Un autobus rampa? Ma è bellissimo E dentro abbiamo anche il nostro amichetto Sei pronto a disintegrarti? Sì Schiantiamolo subito Ti prego dimmi che queste due robe giganti dietro Sono il turbo Sì Verso l'infinito Ed oltre Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Siamo ai 200 all'ora No, 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 no È difficilissimo È difficilissimo Però posso farcela Vai Vai No No ragazzi Ce l'avevo fatta Ma dai Cosa è diventato? Non esiste più Si è accartocciato tutto Voglio riprovare Non mi sento per niente soddisfatto Ce l'avevo quasi fatta Vai Vai Questa è la strada giusta Resta Resta Fermo Oh mio dio Oh mio dio Quasi 300 chilometri orari Gira Gira Oddio Però ce l'abbiamo fatta Sono diventato un'amaca tra due alberi Però missione compiuta È giunto proprio quel momento Ossia ci faremo mangiare da questo vermone gigante Che tra l'altro Anche l'interno è gigante Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro È praticamente una caverna infinita Qui ci sono tutti i suoi denti Scendendo c'è tutto il suo corpo Il suo stomaco Cioè guardate che figata Fa un po' schifo Ma è comunque una figata Qui c'è tipo tutto l'acido contenuto nel suo stomaco Ma qui continua Ci sono delle caverne nel corpo del verme gigante Vi rendete conto? Questa roba è illegale Cioè praticamente la macchina arriva già esplosa E si schianta contro la parete finale del verme gigante È stupendo Per finirlo sono dovuti andare sotto la mappa Cioè letteralmente siamo sotto la mappa Vai Bumblebee Sono pronto Facciamo anche il giro della morte Tu sei il migliore Vai No Magari eviterei il giro della morte Che schifo Useremo la strada normale Vai Dritto dentro il verme Oh mio dio ragazzi fa paurissima È troppo grande Guardate quanti denti ha Sicuramente ci schianteremo contro uno di quelli No È esploso di nuovo il motore No 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 Rallenti Che botta Oh mio dio Oh mio dio lo sapevo Lo sapevo contro il dente Oh mio dio ragazzi è esploso tutto Non ci sono più pezzi della macchina No 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 stiamo per finire nell'acido Oddio Oddio Che bello Scendere in questo verme gigante con la macchina è fantastico Vai voglio finire nell'acido Sì Mi piace Vai 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 piano 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 Si è buggata anche questa macchina Cosa sono queste linee nere che escono dappertutto Ci siamo quasi Ci siamo quasi Sì 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 Ed eccoci qui nell'acido del vermone gigante È stato bellissimo Stiamo arrivando Non temete L'ambulanza Sì Sì ragazzi Sto per schiantare un'ambulanza all'interno di un verme gigante Ma devo salvare Bumblebee È stato distrutto Vai Oh mio Dio Un'ambulanza a 170 km orari Vai Vai Siamo quasi a 200 Salto Dell'Aquila Oh mio Dio Ok Ho attivato il rallenti Oh no Oh mio Dio ragazzi È stupendo Oh L'ambulanza è stata praticamente disintegrata La carrozzeria non c'è più Oddio Oddio piano 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 è bellissimo Ragazzi questo gioco è bellissimo È la perfezione Adesso però devo assolutamente provare con il camioncino di Scooby Doo Cioè ditemi che non è quello È identico E possiamo metterci dentro anche il nostro amichetto Let's go Scooby Scooby Doo Where are you? Sto arrivando Dai sì Voglio raggiungere i 200 all'ora E schiantarmi nella bocca del verme Vai Vai siamo quasi ai 200 Sì Sì Perfetto È il momento Dello schianto siumico Oddio Sì Volo supremo Contro il dente No 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 Non ha preso il dente Ma dai ma che schifo Aia Credo che questo abbia fatto leggermente Leggermente più male Non esiste più il camioncino di Scooby Doo Che fa anche rima Voglio assolutamente percorrere la bocca del vermone Con questa macchina E ci sono quasi Non ti distruggere Non ti distruggere Non ti distruggere Ok ok va bene va bene Addrizzati Addrizzati E dai Ma che ci vuole a girare Ma fai schifo Ok Piano Piano Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vai 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 Stiamo per arrivare alla fine del vermone E niente La macchina ha deciso Che deve iniziare a diventare un fidget spinner Dai Dai No 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 Oh mio dio Oh mio dio Questa esplode malissimo Vai non fa niente Ci siamo quasi Vai Oddio Oddio vai Discesa Ok Ok Vai 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 Oh mio dio Ma è infinito Ma non ci arriverò mai alla fine Ha anche preso fuoco la macchina Piano Piano Oddio E niente La macchina si è aperta in due Fantastico Al prossimo video Non so cosa dovrebbe essere questo mostro di macchina Ma devo andare molto lentamente E devo provare ad entrare all'interno del ver Ma stai scherzando Bro Bro Ma stai scherzando